Roberto Biscardini, una mozione oggi in città metropolitana per contestare che cosa? Il 25 novembre scorso il Governo ha emesso un decreto legge, quindi attualmente è già operativo, che per in parte sanare, in parte contribuire alla questione che riguarda Expo, cioè in parte è un contributo per l'Expo che è finita, in parte è un'anticipazione degli interventi sulle future destinazioni delle aree di Expo, dentro quel decreto c'è anche il fatto che queste somme verrebbero recuperate togliendo dalla città metropolitana i finanziamenti che avrebbe dovuto avere per realizzare la tramvia Milano-Limbiate. Ecco, qui si pongono ancora due problemi, uno assolutamente di merito, nel senso che lo sviluppo del trasporto pubblico, addirittura lo sviluppo del trasporto, in questo caso su ferro, perché stiamo parlando di un tram, il ripristino della vecchia tramvia, il gamba delle legne, era una volta il tram giallo, si chiamava, è un obiettivo, come dire, che la città metropolitana ha per rafforzare il proprio sistema ferroviario e dei trasporti pubblici. Dall'altro, l'aspetto politicamente però grave, su quale non ci si può scherzare, è che il governo, senza informare della città metropolitana, toglie dei soldi alla città metropolitana con un atto assolutamente centralista. Quindi io chiedo con la mozione che politicamente il sindaco Pisapia, il Consiglio metropolitano, elevi in una durissima protesta contro questo decreto e chiedano attraverso la mozione la revoca di questo provvedimento del governo. Sì, è evocato il governo Renzi. Allora, le domande, siccome in Consiglio questa mattina ci sono anche questi ragazzi precari della città metropolitana, che sono gli stessi che l'anno scorso evocavano lo stesso problema, il rinnovo del contratto in qualità di membri della provincia. Poi è arrivata appunto la città metropolitana. Che cosa possiamo dire a questi ragazzi che sono madri di famiglia, che aspettano figli, insomma, che vogliono avere una vita normale? Anche qui c'è un doppio aspetto del problema. C'è un problema, come dire, che riguarda i singoli lavoratori, che noi dobbiamo cercare di tutelare in tutti i modi perché è giusto che abbiano una prospettiva o nelle attività e nelle funzioni che continuerà la città metropolitana a svolgere in proseguimento delle funzioni che svolgeva prima la provincia. O da altre parti, da questo punto di vista, io lamento una negligenza, secondo me, del Comune di Milano che potrebbe, secondo me, assorbire molti di questi dipendenti, sia coloro che sono nei settori dei servizi sociali, nella famosa questione del CAM, del Centro di Assistenza dei Minori, oppure alcuni dipendenti della Vigilanza e della Polizia Provinciale, che adesso non c'è più, che è una funzione che va a terminare, che potrebbe assolutamente, sono numeri che potrebbe il Comune di Milano assorbire. Questa è la mia proposta. Adesso vedremo con i sindacati, con i lavoratori, le questioni di merito. Dall'altra invece c'è un problema politico più grave. Io considero la legge del Rio, che ha istituito la città metropolitana, una bruttissima legge. Non prevede neanche l'elezione diretta del sindaco del Consiglio metropolitano, quindi è una legge che fa nascere un'istituzione politicamente debole. Poi le finanziarie, o adesso si chiamano leggi di stabilità, sia dello scorso anno sia di quest'anno, non danno risorse e quindi noi ci troviamo con una città metropolitana che nelle ambizioni dovrebbe svolgere una funzione ancora più grande della provincia, con minori risorse, minori dipendenti della provincia di prima. Quindi è evidente che c'è un conflitto politico fra la città metropolitana e il governo.